Siamo qui al Sicanto.com Junior con? Aurora, Federico Quanti anni avete? 11, 8 Bene, cosa che cantate oggi? Il più grande spettacolo dopo il Big Mac Bravissimi, e siete fratelli? Sì Ok, è la prima volta che cantate davanti al pubblico? E avete un cantante preferito? Sì Chi è? Ivan Dorigatti Ivan Dorigatti Ma come avete sentito? Ah, un concetto Quindi il vostro cantante preferito è Ivan Dorigatti? Sì, ci piace moltissimo Sì È il vostro eroe È il vostro eroe Non è da dirlo Ivan Bene, allora buona fortuna Tanti auguri Il più grande spettacolo dopo il Big Mac 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 o non primavera, io e te, io e te, io e te, io e te. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho perso la chitarra, mi è sosta personale, è bello vivere anche se siete amore, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.